Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la segna stampa commentata di Italia che cambia. Oggi è lunedì, dobbiamo recuperare un po' di notizie del weekend, quindi dobbiamo fare una gran corsa e parlare di recovery fund, del rapporto fra coronavirus e inquinamento atmosferico, delle condizioni del leader coreano Kim Jong-un, di due studi sui cambiamenti climatici e di pensiero sistemico. Ce la faremo? Non ce la faremo? A stare dentro dieci minuti? Io non sospetto ce l'ho, però vediamo, proviamoci. Allora, oggi tutti i quotidiani comunque per cominciare aprono con la conferenza di Conte di ieri sera sulla fase 2, che è già stata prontamente rinominata fase 1 e mezzo, perché obiettivamente non cambia così tanto, c'è una riapertura molto lenta e graduale delle attività commerciali, un allentamento del lockdown, si potranno incontrare i parenti, ma con le mascherine, si potranno celebrare i funerali, ma solo con i parenti stretti e non le messe. Dal 18 maggio riaprono i negozi, mentre solo dal 1 giugno dovrebbero riaprire i bar e i ristoranti, o perlomeno quelli che possono comunque garantire un certo distanziamento. Ad ogni modo, vi lascio un articolo di internazionale abbastanza dettagliato, perché fra l'altro ne parlano tutti, insomma, saprete già a memoria tutto, ma comunque vi lascio un articolo per approfondire. Io nel frattempo passerei a parlare di altri argomenti. Allora, partiamo, restando più o meno in tema, e partiamo dal recovery fund. La situazione economica di molti paesi europei è disastrosa in questo momento. L'Italia prevede un calo di circa il 9% del prodotto interno lordo nel 2020. Standard eppure ha già prontamente pensato a declassare il rating del nostro debito, in altre parole ha detto che è meno sicuro rispetto a prima. Debito che nel frattempo dovrebbe balzare a fine anno al 153% del PIL, e non tanto per un aumento del debito in sé questa volta, ma proprio in base alla contrazione del PIL. Ricordiamo che secondo il patto di stabilità fra Stati e Unione Europea, il rapporto debito-PIL dovrebbe stare entro il 60% e il nostro è attorno al 153%, quindi più o meno tre volte rispetto agli impegni europei. Comunque, fatto sta, è sicuramente una situazione fuori, completamente fuori dalla norma, ed è notizia di venerdì che la Commissione Europea ha approvato questo ulteriore strumento finanziario per favorire la ripartenza economica dei Paesi membri. Cosa si tratta? Nella sostanza il Recovery Fund non è niente di particolarmente diverso da quelli che chiamavamo Eurobond, Pandemic Bond, è un meccanismo abbastanza simile. Come funziona? In pratica è un fondo, cioè un paniere, che è stato creato dalla Commissione Europea per distribuire aiuti ai Paesi in difficoltà. Per adesso però è un paniere vuoto. Quindi le domande fondamentali sono da dove arriveranno i soldi, come verranno distribuiti e quanti soldi effettivamente verranno distribuiti. In pratica, a quanto pare, partendo dalla prima domanda, quindi da dove arrivano i soldi, la Commissione Europea, che è un soggetto giuridico quindi può farlo, va sui mercati finanziari a raccogliere appunto fondi di investimento emettendo dei Bond, detti Recovery Bond, che hanno come garanzia il bilancio europeo dal 2021 al 2027. Poi cosa succede? Succede che questi fondi vengono reindirizzati ai vari Paesi, solo che sul come questa cosa avviene, in realtà, che fra l'altro è forse l'elemento più importante, non c'è un accordo, o meglio, non se ne è ancora parlato nei dettagli. Tendenzialmente ci sono due opzioni, ci sono due modi, o a prestito o a fondo perduto. A prestito vuol dire che il fondo presta i soldi agli Stati membri, che quindi vanno ad aumentare il proprio debito. Il che è una soluzione che, ovviamente, è spinta dai Paesi come la Germania, o i Paesi del Nord Europa, che sono più rigorosi, ma che è più rischiosa, invece, per chi ha già un debito pubblico fuori controllo, come l'Italia. Tra l'altro, verrebbe da chiedersi qual è, se c'è un vantaggio così grande, cioè, visto che i Paesi già si indebitano direttamente, emettendo buoni del tesoro, qual è il vantaggio che sia l'Unione Europea indebitarsi sui mercati finanziari per prestare i soldi ai Paesi membri. In realtà, un vantaggio c'è, nel senso che, ovviamente, essendo l'Unione Europea un'entità molto più solida rispetto ai singoli Paesi, soprattutto Paesi come, ad esempio, l'Italia, la Grecia, la Spagna, può indebitarsi a condizioni più vantaggiose, quindi avere degli interessi sul debito più basso. Però, comunque, è un vantaggio abbastanza relativo. L'altra opzione, invece, è che vengano dati, almeno in parte, questi soldi a fondo perduto, quindi regalati, se vogliamo dirla così. Ed è la soluzione che, invece, è caldeggiata dai Paesi più indebitati, come Italia, Spagna, Grecia, Portogallo, Francia. Anche, fra l'altro, su quanti soldi questo fondo muoverà, non c'è un accordo, cioè, non c'è niente di scritto, di preciso. Conte, nel suo messaggio all'Eurogruppo, ha chiesto che il fondo movimenti almeno 1.500 miliardi di euro complessivi, quindi una cifra abbastanza importante. Comunque, fatto sta che adesso la palla passa alla Commissione Europea e con la Presidente dell'Esecutivo, la Ursula von der Leyen, che entro il 6 maggio dovrà presentare la nuova proposta di bilancio UE con integrazione del Recovery Fund. Quindi, vediamo, staremo a vedere che tipo di proposta uscirà dal Parlamento Europeo, dalla Commissione Europea, scusate. Va bene, passiamo ad altro. Vi ricordate qualche settimana fa che avevamo parlato dell'ipotesi del coronavirus che viaggia sull'inquinamento atmosferico, aggrappandosi alle nanoparticelle presenti in atmosfera per vedere l'inquinamento. Ecco, queste ipotesi sembrano almeno parzialmente confermate. La Società Italiana di Medicina Ambientale ha continuato a sviluppare ricerche sull'argomento e sembra aver individuato l'RNA del coronavirus sulle polveri sottili PM10, che sono delle particelle mitroscopiche che sono disperse nell'ambiente e che vengono emesse, ad esempio, dai tubi di scappamento degli automobili o dalle stuffe, insomma, da vari elementi che inquinano, dalle fabbriche che inquinano l'area della città. Sono frutto della combustione fondamentalmente. In realtà, non si sa ancora se e quanto il virus resti vivo aggrappato a queste particelle. In pratica, non sappiamo se si può contrarre il virus semplicemente respirando un'aria inquinata, quindi entrando in contatto col virus che sta attaccato appunto a questo nanoparticolato, ma è un possibile indizio. Comunque, di sicuro, intanto, questa scoperta ha la possibilità di testare la presenza del virus sul particolato atmosferico delle nostre città nei prossimi mesi, in modo da rilevare precocemente la ricomparsa del coronavirus e quindi poter agire in maniera più tempestiva quando si ripresenti appunto una nuova ondata di epidemia. E quindi appunto adottare misure preventive prima dell'inizio della nuova epidemia, cioè prima che i casi si inizino a verificare, quindi ad essere misurabili proprio sulle persone. Bene, allora, cambiamo argomento di nuovo. Quanto siamo? 8 minuti, sporiamo sicuro. Comunque andiamo avanti. Cambiamo argomento. Si infittisce il mistero sulle condizioni di salute del leader coreano Kim Jong-un, che non appare in pubblico dall'11 aprile scorso. Nei giorni scorsi era circolata con una certa insistenza la voce che fosse morto in seguito a una delicata operazione al cuore. In realtà da ieri sera hanno iniziato a circolare voci contrastanti che sostengono che il leader, il dittatore coreano, sia in realtà rifugiato in un resort di lusso sul mare per sfuggire probabilmente all'epidemia di coronavirus. Ovviamente il governo coreano, essendo lui fondamentalmente, non dice niente sulla situazione, non ci sono fonti ufficiali, ci sono alcune dichiarazioni, ad esempio, di un rappresentante per gli affari esteri della Corea del Sud, alcune voci che arrivano dalle fonti di intelligence, ma fatto sta che non ci sono voci ufficiali, per adesso ci sono soltanto rumors. Però ecco, c'è a parziale conferma di queste voci che vedono il leader appunto in realtà su un resort al mare, è stata vista dalle foto satellitari il convoglio privato, una sorta di vagone privato del leader coreano, parcheggiato proprio nei pressi appunto di questa località marittima. Quindi, non lo so, comunque penso che nei prossimi giorni in qualche modo ne sapremo qualcosa. Allora, andiamo verso la conclusione con due notizie legate ai cambiamenti climatici, perché mentre tutto il mondo si preoccupa del coronavirus, il clima comunque resta il principale problema da risolvere come umanità sia ormai a breve, medio e lungo termine. e appunto ci sono due nuovi studi, nel frattempo non so se sono la sirena di un'ambulanza, quindi spero che non disturbi troppo, due nuovi studi di cui vi parlo molto brevemente. Il primo coinvolge 21 istituti di ricerca in tutto il mondo e mostra che entro il 2050 l'oceano artico sarà molto probabilmente del tutto privo di ghiacci durante l'estate, con effetti che potete immaginare sugli ecosistemi, sulle specie animali che abitano i ghiacci, sulle correnti, sul clima e così via. Quindi è già una cosa che sembra stia andando molto velocemente fuori controllo. Un secondo studio invece dell'Università del Colorado mostra come l'aumento della concentrazione di CO2, quindi di anidride carbonica, in atmosfera avrà dei picchi soprattutto negli ambienti cittadini chiusi al chiuso come abitazioni e uffici di lavoro e in questi luoghi potrebbe raggiungere le 1400 parti per milione che sono circa tre volte e mezzo i livelli attuali di CO2 all'aria aperta e questo è un problema particolarmente grave perché ormai è dimostrato che a livelli alti di CO2 inibiscono il nostro sviluppo cognitivo, ci rendono più stupidi fondamentalmente. I livelli come quelli previsti allo studio, prosegue lo studio stesso, potrebbero ridurre di molto la nostra capacità di prendere decisioni efficaci e di pensare in maniera complessa. In pratica più aumentano i livelli di CO2 quindi più il problema climatico diventa difficile da risolverlo, da risolvere, su di me stanno già avendo effetti, più diminuisce la nostra capacità di risolverlo. Quindi diciamo più diventiamo stupidi e quindi più o meno siamo capaci di risolvere il problema climatico. È un classico esempio di ciclo di retroazione positivo che alimenta i cambiamenti climatici. E infine per concludere a proposito di cicli di retroazione positiva, oggi abbiamo pubblicato su Italia che cambia un bell'articolo di Roberto Battista sull'importanza di imparare a pensare sistemico che cicli di retroazione positiva sono uno dei tanti elementi del pensiero sistemico. Dobbiamo assolutamente diffondere questo tipo di pensiero perché finché continuiamo ad affrontare i problemi separatamente non andiamo da nessuna parte. Quindi leggetevelo, ve lo lascio in descrizione e poi approfondite, mi raccomando, è un elemento veramente importante per iniziare a risolvere davvero i problemi grossi sia del clima sia quasi tutti i problemi che stiamo affrontando. Va bene, direi 12 minuti e 51 abbastanza onesto viste le previsioni. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di un mi rassegno sempre alle 10, sempre alle 10 minuti e vi ricordo come ogni giorno che chi si rassegna è perduto. Ciao!